Grande fratello, scoppia un nuovo caso su Shaila Gatta. Come sappiamo, l'ex velina ha abbandonato la casa più spiata d'Italia insieme a Lorenzo Spolverato. Però, a differenza di ciò che credono gli altri concorrenti del reality show di Canale 5, lei e il modello milanese non sono stati eliminati. Per loro è stato organizzato un viaggio a sorpresa al grande fratello di Spagna, il Gran Hermano, trasmesso su Telecinco. Durante il volo da Madrid a Roma, ovviamente, Shaila e Lorenzo non sono stati seguiti dalle telecamere. Tuttavia, sulla rete sono iniziate a circolare alcune foto che ritraggono i due geffini italiani in aereo, sia insieme che separati. In queste immagini, alcuni telespettatori hanno scoperto un dettaglio particolare, un segno che suggerirebbe che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Shaila e Lorenzo sono atterrati da poco in Spagna. Ma con spiriti diversi, lei, dopo aver scaricato in diretta Avier Martinez, e lui dopo essersi dichiarato Shaila, ma quando lei scelto il pallavolista argentino. Ora che Avier è fuori gioco, molti sono convinti che tra Shaila e Lorenzo possa finalmente scattare la scintilla. Secondo alcuni telespettatori, in realtà, Cupido avrebbe già colpito. In particolare, a documentarlo sarebbe una foto fatta a Lorenzo in aereo, in cui si noterebbe un succhiotto sul suo collo del giovane modello milanese. Sarebbe la prova che Shaila e Lorenzo sono molto più vicini di quanto lasciano intendere. «I fan si dividono. Solo io vedo un succhiotto sotto al pomo d'Adamo?» chiede uno. «Credo sia solo un'ombra. Non è il punto ideale per un succhiotto», risponde un altro. Altri telespettatori si rivolgono ad Alfonso Signorini, chiedendogli di indagare per capire se tra i due ci sia stato davvero qualcosa. Alcuni, invece, sono convinti che Shaila e Lorenzo abbiano già superato il limite dell'amicizia. Ovviamente, si tratta solo di illazioni e non ci sono prove concrete. Tuttavia, se così fosse, le carezze che i due si sono scambiati poco fa sul divano della casa del gran hermano potrebbero assumere un significato diverso. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news, puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.